Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come vi ho detto dal titolo si torna a parlare dei dettagli di GTA 6 consideratela come una parte 2 del video che è uscito ieri dato che ho trovato tantissimi nuovi dettagli ma questa volta sono proprio andato nel minimo, un proprio minimo particolare quindi gustatevi questo video che sarà lungo come quello di ieri che ho visto che vi è piaciuto tantissimo pertanto vi invito a lasciare mi piace, condividere con i vostri amici, mi raccomando è importante e soprattutto iscrivervi dato che molti di voi guardano i video anche di GTA 6 senza essere iscritti ragazzi iscrivetevi perché come vedete appena esce la notizia, c'è una novità vi porto subito il video con ovviamente notizie ufficiali e se vi interessa in descrizione c'è il gruppo Telegram ufficiale di GTA 6 Italia quindi partiamo dalla prima foto, ovviamente le cose che ho già analizzato nel video di ieri non le rimetterò nuovamente in quest'altro video quindi qui troverete solamente cose inedite partiamo subito, vi ho inquadrato il camion che si vede lì dato che Patriot sarà a quanto pare una nuova marca di birre presente appunto all'interno di GTA 6 per il resto abbiamo già visto tutto quanto in questo fotogramma in più come molti di voi mi hanno fatto notare anche nei commenti comunque l'avevo visto perché è abbastanza evidente nel nuovo artwork ufficiale che ha postato Rockstar Games sul Newswire come vedete è questo qui si vede appunto ovviamente si vede tutto quanto GTA 6, il logo in arrivo al 2025, i due personaggi e in più si vede Lucia con braccialetto elettronico sulla gamba come vedete eccolo lì, c'è la sulla caviglia questo può confermare quanto abbiamo visto anche nel trailer che ci sta appunto Lucia che sta in prigione quindi potrebbe essere che effettivamente Jason aiuterà Lucia a fuggire di prigione e comunque ci sarà una missione all'interno della prigione quindi questo è poco ma sicuro dato che comunque altrimenti non avrebbe senso mettere questo braccialetto elettronico nell'artwork di Lucia e in più questo potrebbe confermare anche che ci sarà un iperrealismo su GTA 6 che quando verremo arrestati verremo appunto buttati in prigione per 8 ore, 8 giorni altra foto qui che dove fanno appunto vedere il mare o l'oceano insomma già l'abbiamo visto super limpido si vede il fondale lì vediamo un gruppo di delfini quindi nuovi animali confermati e lì vediamo degli squali lì se ne vede solo uno comunque ce ne sta un altro anche più arriva questo perché in Florida è pieno e ovviamente l'hanno riportati anche in questo caso nel gioco e lì un'altra barca che si può vedere che se non sbaglio è un modello presente anche su GTA Online comunque dopo più avanti nel trailer si vede meglio come vedete questo qui è l'altro squalo di cui vi parlavo invece arriva si possono vedere oltre che gli ombrelloni e tutto quanto anche i vari doom buggy che possono andare sulla spiaggia come vedete stanno lì sono due cioè la frase che ha fatto ridere tutti quanti che la leggete lì in qualche modo insomma se zoomate pubblicizza un sito 919 che potrebbe essere una specie di parodia di Tinder dato che il significato della frase va ad indicare una cosa simile in quest'altro fotogramma possiamo vedere il realismo con cui i jet e in generale gli aerei che tra l'altro anche in quello là mi sembra nuovo è molto più dettagliato rispetto a quelli che si vedono su GTA 5 lasciano appunto la scia bianca e sempre qui possiamo vedere altri dettagli come gente che sta sul tetto di insomma questa mini palazzina credo sia una palazzina non si capisce bene e anche un'altra cosa come vedete nel quadratino di destra vi ho cerchiato come sia possibile appunto vedere gli interni degli edifici su GTA 6 questo vi ripeto è veramente importante perché va a sottolineare ciò che ci hanno detto e ciò che abbiamo visto nei leak ovvero che a quanto pare gran parte della mappa sarà accessibile gran parte degli edifici saranno accessibili si vocifera più del 75% quindi immaginate un Red Dead Redemption 2 però con praticamente tu abiettato adesso presente nei giorni nostri come avete visto però con appunto la mappa con gli edifici accessibili quello che sembra essere un cacciatore con anche ho inquadrato due uccelli che sono mi sembrano specie diverse quindi attenzione qui come vedete la fauna è molto varia e in più potrebbe avere una speargun quindi sarebbe però si utilizza normalmente sott'acqua con i sub quindi è improbabile bisognerà vedere appunto dove porta questo fiume della palude degli Everglans perché si chiamerà appunto Everglans e effettivamente cosa utilizzerà altrimenti potrebbe essere tranquillamente un fucile sì per chi se lo stesse chiedendo lo speargun è presente e sarà presente su GTA 6 dato che è stato visto appunto nei file di gioco con il leak di settembre 2022 vi ripeto se vi interessano più di 600 dettagli su GTA 6 trovate il mio video che ho fatto a riguardo con tutti quanti i dettagli ufficiali qualche settimana fa poi torniamo alla foto in spiaggia che personalmente è la mia preferita intanto sulla sinistra possiamo vedere un ragazzo che sta mettendo la crema solare ad un'altra ragazza e se guardate proprio il trailer si vede proprio la differenza con cui appunto mette la crema solare tra un lato della gamba che ce l'ha e un altro lato che non ce l'ha in più sulla destra troviamo tutti quanti questi oggetti da spiaggia che sono iper dettagliati che roba che su altri giochi non troverete mai e in più qui troviamo un'altra cosa che ha fatto ridere molti che ci sta insomma sempre una specie di cosa molto creepy con questo qui che fa la foto alla tizia che si è piegata senza che lei appunto se ne accorgesse e in più altro dettaglio sempre riguardo gli npc lì come vedete quel tizio lì appunto delle airpods ciò conferma che le airpods che hanno aggiunto su gta online tra l'altro saranno disponibili anche su gta 6 in più come vedete sugli ombrelloni ho cerchiato ciò che c'è scritto lì sopra sarà un marchio probabilmente dello stabilimento immagino dato che tutti quanti gli ombrelloni sono uguali che si chiama appunto soul sisters ed è un nuovo brand in arrivo su gta 6 confermati anche i low riders e delle nuove auto come vedete quel suv davanti grigio e invece sulla destra troviamo tutte quante le low riders saranno disponibili su gta 6 probabilmente dal day one dato che appunto sono state viste all'interno del gioco e ovviamente saranno di qualche gang che faranno raduni anche lì si possono vedere insomma delle modifiche che hanno l'auto low rider invece nella scena dello strip club troviamo questo signore con una maglietta sul retro possiamo vedere doll destroyer che potrebbe essere una band oppure lui potrebbe essere in generale un organizzatore di eventi dato che in basso nel fotogramma successivo si vede una lista di zone in cui girerà quindi probabilmente sarà una band che sta facendo un concerto in determinate zone e in più come vedete in alto si legge make it rain monday questo potrebbe significare che ogni giorno all'interno del gioco cambino determinati eventi come ad esempio ci sta lì lunedì che c'è questo evento make it rain e invece martedì ci sarà un'altra cosa e via dicendo più qui un'altra cosa che non hanno notato in molti ci sta l'Ocean Hotel questa qui è una fedele riproduzione dell'Ocean View che sarebbe questa zona del sud di Miami ovviamente dove sta l'oceano una zona molto famosa piena di movite e tutto quanto e l'Ocean Hotel è dove è iniziata anche la storia di Vice City quindi di GTA Vice City quindi molto interessante e tra l'altro sembrerebbe esserci anche una specie di discoteca che è presente anche nella realtà che si chiama E11 Even E11 Even una cosa del genere comunque che è aperta 24-7 cioè insomma vedete lì la foto adesso non sono espertissimo personalmente non la conoscevo però l'ho trovata online ed effettivamente sarà presente nel gioco quindi potrebbe essere un'altra cosa in più anche sempre in questo fotogramma se ovviamente ignorate le auto di cui già vi ho parlato nell'altro video che molte provengono da GTA Online vediamo come da fuori è possibile vedere gli interni di quegli edifici lì potrebbe essere una televisione accesa quindi anche in questo caso molto interessante per lo stesso discorso che facevamo prima e poi qui ho letto Hotel Dixon che magari non c'entra nulla ma Dixon è uno dei DJ che è arrivato con l'aggiornamento dei nightclub su GTA Online nel agosto del 2019 perché potrebbe essere il suo poi passiamo alle Florida Keys che per chi non lo sapesse si chiameranno appunto così sono delle isolette nel sud di Miami dove è pieno di coralli e tutto quanto come vedete riprodotte quasi alla perfezione vi ho fatto vedere nell'ultimo video appunto l'ho comparata con la realtà sono praticamente uguali lì come vedete le isolette sono fantastiche e invece nel quadratino più piccolo ho zoomato ciò che sembra essere un falò acceso quindi anche lì ci sarà un evento random molto interessante che tra due anni mi dovrò ricordare di andare assolutamente a vedere poi lì vediamo un blimp che sarebbe appunto un dirigibile su GTA 5 sarebbe questo qua si chiama blimp chissà se si chiamerà nello stesso modo anche su GTA 6 immagino di sì lì vediamo il ponte in costruzione e qui è interessante perché potrebbe essere la location di uno degli stunt che sicuramente Rockstar Games inserirà dato che c'era su tutti quanti GTA praticamente tutti ovvero quegli obiettivi dove quando fate gli stunt gli dice stunt completati uno di X numero insomma via dicendo c'è anche di là e questo potrebbe anche confermare che la mappa sarà dinamica come ci aveva detto un leak tempo fa che per ora ha azzeccato su molte cose comunque la mappa dinamica che si aggiornerà nel tempo e mano a mano verranno aggiunte nuovi posti e nuove isole con vari aggiornamenti quindi attenzione a questa cosa perché veramente sarebbe fantastica da questo screenshot potete insomma capire molte cose ma sicuramente la cosa meno interessante è che tornerà il marchio 69 che sì è una parodia con il significato italiano però ovviamente gli inglesi non lo sanno che è appunto una parodia di Louis Vuitton come vedete è presente anche su GTA Online ci stanno varie livree e arriverà come brand anche su GTA 6 quindi top per questo motivo poi una cosa che mi avete segnalato in molti passando insomma ai vari Reels perché avete visto che su GTA 6 Rockstar Games ha parodizzato anche TikTok quindi ci sarà una specie di TikTok barra Instagram Reels come vedete ci sta questo tizio qui che sta facendo una festa sul suo yacht e molti di voi mi hanno segnalato che effettivamente assomiglia a Jeff Bezos e adesso non so se vi ricordate ma c'è questa famosa foto di Jeff Bezos dove gli hanno fatto delle foto con credo fosse la sua ragazza o una cosa del genere in cui era praticamente pompatissimo e stranamente perché lui è sempre stato diciamo secco ed è diventato enorme da un giorno all'altro quindi ci assomiglia onestamente ci assomiglia quindi sì potrebbe essere una parodia di questa cosa adesso non so se l'ha fatta le hanno fatte in Florida ma non ho cercato ma può essere dato che comunque per tutti i filmati che avete visto su GTA 6 dei vari TikTok Reels e quello che è che hanno inserito sono tutte cose che sono successe in Florida quindi veramente molto interessante anche qui piccolo easter egg e tra l'altro vi farei notare come la schiena e in generale le spalle e il petto di questo tizio siano arrossate per via del sole mentre il resto del corpo no quindi anche qui dettaglino molto carino da parte di Rockstar Games e come vi stavo dicendo sono tutte cose accadute in Florida Official Poach dovrebbe essere una nuova specie di guardia forestale del gioco comunque non è presente su altri giochi di GTA quindi molto interessante anche questo come vedete già vi ho parlato di questo filmato è appunto successo veramente c'è stato un caso in cui sempre in Florida un coccodrillo è entrato nella appunto piscina di questo qua e l'ha dovuto tirar fuori così quindi l'hanno imitato anche qui la ragazza che twerca sul tetto dell'auto è stata ripresa in Florida queste due potrebbero essere due influencer che aggiungeranno nel gioco vi volevo far sapere la mia riguardo e anche qui con il coccodrillo che entra all'interno di questo shop di questo go postal o quello che è insomma questo bar è successo nella realtà appunto dove c'erano dei coccodrilli che giravano per Miami quindi anche qui Rockstar Games l'ha riprodotto in maniera fedelissima invece lui è proprio il Joker di Miami molti non se ne sono accorti ma è un personaggio reale che è stato arrestato in Florida quindi vi ripeto è sempre una parodia della Florida e come vedete è diventato virale proprio perché assomigliava a Joker in più passiamo alla scena dello swatting in cui c'è la bodycam quindi la telecamera che si piazza sul petto del poliziotto in cui fanno irruzione in una casa di qualcuno si possono vedere intanto le manette intanto varie armi e in più dettagliatissime e in più a quello che a me sembra una granata a gas o robe del genere o insomma bombe fumogene o robe del genere che comunque abbiamo visto nei leak e probabilmente arriveranno su GTA 6 perché effettivamente erano presenti nei file di gioco tutte queste robe alla Rainbow Six Siege diciamo per capirci invece in quest'altro TikTok la cosa interessante oltre al tizio che corre nudo che tra l'altro è un'altra cosa successa veramente più di una volta a Miami possiamo vedere per la prima volta nel trailer delle auto della polizia stile Miami quindi come saranno effettivamente le auto della polizia queste qui mezze verdi e bianche abbiamo parecchi dettagli come vedete intanto Leonida sarà lo stato per chi non l'avesse ancora capito quindi noi andremo a Miami quindi Vice City ma Leonida sarà appunto la Florida quindi Florida uguale Leonida e Miami uguale Vice City praticamente quindi noi giocheremo in tutto quanto lo stato della Florida che è gigantesco quindi immaginate cosa ci sarà per quello vi dico che non ci sarà solamente Vice City e appunto questo tizio tra l'altro parodizzano il fatto che a Miami e in Florida siano tutti quanti un po' matti ci sia gente strana se notate prendono in giro tutti quelli della Florida possiamo vedere nuovamente due cartelli che confermano altre location del gioco e invece qui troviamo un altro easter egg come al solito satirico di Rockstar have you seen any bad guys wanted for panty sniffing che sarebbe ricercato un tizio avete visto questo tizio cattivo che è ricercato per aver annusato delle mutande quindi anche qui ironia Rockstar come al solito in quest'altro frame possiamo vedere delle modifiche come vedete che si possono inserire sull'auto quindi attenzione a questa cosa e in più la scritta vice vinili che adesso ci arriviamo dietro se ci fate caso tra vice vinili e cross town troviamo una specie di pagina Instagram e questo conferma che effettivamente quello lì sarà il logo della parodia di Instagram su GTA 6 qui un dettaglio che ho notato e che potete vedere anche in altri frame del trailer gli specchietti retrovisori e in generale gli specchietti funzionano o almeno sembrano funzionare poi ovviamente è un trailer cinematografico saremo a vedere nella realtà e qui possiamo vedere un colore molto strano sull'auto a me sembra un po' bagnata comunque se è questo l'effetto tanta roba in questo frame tutti quanti si sono concentrati sul tizio in mutande o in bikini che annaffia ma io vi farei notare come anche in questo caso si possono vedere gli interni delle case quindi anche qui Rockstar gran lavoro in questa scena in cui c'è il mud club cioè il club di quelli che vanno a fare off-road nel fango si può vedere intanto il Monster Truck che è presente anche su GTA 5 online e su GTA 5 quello lì con la livra americana vari insomma veicoli per l'off-road già ve li avevo fatti vedere e in più a quanto pare ci sono anche due ragazzini fatemi sapere la vostra nei commenti però tutti quanti stanno effettivamente dicendo che sono si tratta di due ragazzini che potrebbe essere tranquillamente come cosa come potrebbe essere come potrebbero essere due persone che effettivamente però sono sprofondate un po' nel fango perché non sappiamo effettivamente quanto sarà profondo però non abbiamo visto altri ragazzini su GTA 6 chissà se questi qua saranno effettivamente ragazzini e se ci saranno ragazzini su GTA 6 in più tornando al discorso di prima parodia della vita reale qui questa scena è veramente accaduta come vedete dal video deriva da un profilo di una che è stata ripresa dai vicini perché è una specie di Karen comunque in due parole diciamo che Rockstar Games ha inserito il meme della Karen per chi non lo sapesse la Karen sarebbe quella mamma rompiscatole che cerca il pelo nell'uovo in ogni cosa un po' come quelli che sotto ai miei video mi scrivono ah hai detto X invece di Y perché magari mi sono distratto mentre parlavo però comunque no ovviamente scherzo però comunque questo qui è il meme che ha inserito Rockstar Games in più altro dettaglio che qui hanno dato veramente in pochi quello sulla sinistra già ve l'ho parlato It Cures Emotion già ve l'ho parlato qui sulla destra abbiamo una specie di mega cartello che sembrerebbe essere quello di un centro commerciale come vedete con vari negozi Scala Callus e tutte cose simili quindi probabilmente anzi quasi sicuramente ci sarà un centro commerciale che se non sbaglio è presente a Miami quindi staremo a vedere altro super dettaglio qui all'interno delle banconote intanto la scritta che riporta un giorno dell'indipendenza se non sbaglio dell'Irlanda hanno cercato su internet ho letto una roba del genere cosa c'entra non ne ho idea però probabilmente chi ha scritto chi ha disegnato quella cosa irlandese magari ha messo un easter egg però la cosa veramente interessante che vi vorrei far notare oltre alle varie scritte che potete leggere da soli in qualche modo se zoomate è che la carta delle banconote risulta effettivamente sporca alcune sono più sporche altre meno sporche in base insomma a chi ha toccato effettivamente quel banconote quindi anche qui iper realismo Weasel News ritorna e già ve ne ho parlato sarebbe la variante di Fox News questo qui ve l'ho messo perché potrebbe essere uno degli eventi casuali presenti all'interno del gioco che abbiamo visto nei leak nei file di gioco che appunto ci daranno degli eventi che renderanno insomma il gioco vivo tra cui questa auto cappottata perché lì sotto c'è scritto after pewis dine and dash quindi dine and dash vuol dire quando appunto mangiate a un ristorante non pagate scappate quindi in questo caso c'è stato un incidente perché questo qui mentre che scappava da un conto non pagato ha fatto un incidente quest'altro frame invece si vede tanta roba intanto in alto si vede la Banshee quasi sicuramente poi altri veicoli nuovi come vedete quella specie di SUV camioncino stile Uber diciamo per capirci in più sempre lì in alto a destra si vedono due biciclette quindi anche qui molto particolare vuol dire che le biciclette torneranno e invece qui troviamo High Rollers Lifestyle che potrebbe essere una specie di serie una parodia di un qualcosa che mi sfugge la targa dell'auto è PMP cioè Pimp anche lì ironico e invece quello che vi ho cerchiato sono dei vinili appunto sul retro di questo camioncino che potrebbe centrare col Vice City vinili che vi ho fatto vedere prima nuova birra in arrivo la Peacewasser 9 Peacewasser vuol dire acqua di piscio per capirci quindi ovviamente è ironico 9 perché sarà quella appunto senza alcol quindi è una new entry della Peacewasser su GTA 6 e poi abbiamo qui la telecamera di sicurezza di cui già vi ho parlato nel video con i vari dettagli 600 dettagli eccetera eccetera perché a quanto pare lui sia avrà l'abilità di hackerare e tutto quanto e le telecamere di sicurezza potranno allertare immediatamente la polizia in caso appunto ci dovessero rilevare facendo qualcosa di errato ovviamente quindi le dovremmo prima distruggere o insomma hackerare in qualche modo in questa foto invece si vede intanto il nuovo logo dell'Ecola già ve l'ho detto sta anche su GTA Online l'hanno aggiornato con del nuovo libero per i veicoli si vede la Logger Beer che a quanto pare sarà un nuovo marchio di birre seguendo qui abbiamo un nuovo negozio confermato di armi si chiama Pound and Gun invece se leggete sulla testa c'è scritto Gun e Pound Shop quindi insomma è un po' ironico che si tratti del contrario comunque lì davanti vedete anche un SUV nero che sembra essere quello lì della Mercedes bello Gaiardo poi vedete loro che scappano con la macchina qui vedete se vedete proprio il trailer reale vedete proprio la ruota che curva e si diciamo si sbilancia nella direzione in cui gira e in più vedete anche Lucia che prova a reggersi dal appunto dallo specchietto della macchina per insomma probabilmente non alla cintura o cose del genere perché stanno scappando ad alta velocità la targa è un altro easter egg sempre relativo agli abitanti di Miami e in generale soprattutto di Miami ma della Florida Nice Tan che vuol dire appunto bella abbronzatura perché questi qua sono tutti quanti abbronzati perché ovviamente stanno vicino all'oceano e invece lì dietro si vede WHS Shoes quindi un negozio di scarpe questa scena un po' più intima tra i due che ci ha fatto vedere Rockstar nel trailer vediamo le cicatrici di Jason e ciò ci possono dire molto sul suo passato fatemi sapere la vostra nei commenti e invece su Lucia troviamo questo braccialetto che ho letto essere un braccialetto dell'amore infinito insomma una specie di giuramento infinito una cosa del genere che lega effettivamente i due nel bene e nel male quindi bisognerà vedere appunto se Jason avrà effettivamente questo braccialetto o meno per confermare la storia di coppia che vabbè è praticamente confermata però comunque è un dettaglio in più invece qui in questo negozietto che stanno rapinando come vedete si vede quel cartello su cui c'è scritto non accettiamo più denaro muto nelle mutande quindi anche qui ironia rockstar qui invece abbiamo il logo degli illuminati perché che GTA sarebbe senza illuminati visto che li piazzano ovunque nascosti e poi qui abbiamo Petty Forever e qui voi direte chi è Petty Tom Petty è l'artista musicale la cui canzone è stata utilizzata per appunto il trailer di GTA 6 quindi hanno messo questo omaggio a Petty che tra l'altro è venuto a mancare un po' di tempo fa quindi Petty Forever poi abbiamo qui sulla sinistra un nuovo marchio di birra pindajo cerveza cerveza e birra pindajo meglio se non lo dico però comunque anche qui ironia con direttamente in spagnolo e invece qui troviamo due nuove pistole che a quanto mi avete detto più che altro perché non sono espertissimo dovrebbero essere delle Glock 16 attese molto dai giocatori di GTA 6 e come mi ha fatto notare un ragazzo di cui adesso non ho ritrovato più il commento però bell'occhio complimenti Jason tiene la pistola con la mano sinistra e voi direte chi se ne frega secondo me è un dettaglio figo e l'ultimo dettaglio qui abbiamo Logger Lite quindi la nuova Logger ci sarà anche nella versione Lite questi qua ragazzi sono tutti quanti i dettagli del nuovo GTA 6 ma proprio tutti tutti nel minimo dettaglio credo che non mi sia più sfuggito nulla comunque ho fatto due video perché altrimenti i 40 minuti di video sarebbero stati un po' eccessivi quindi andateli a vedere tutti quanti incluso anche il primo video che ho fatto qualche settimana fa con più di 600 dettagli così state belli freschi e per due anni state a posto così quando esce GTA 6 sapete tutto quanto mi raccomando iscrivetevi al canale se siete arrivati fino a questo punto del video commentate GTA 6 soldi a caso quindi spero che questo video vi sia stato utile mi raccomando iscrivetevi al canale nuovamente vi ringrazio per avermi tornato con la visione e noi ci vediamo al prossimo video